Una comunicazione importante per tutti voi. Il 26 e il 27 gennaio del 2022, qui a Casalecchio di Reno, presso il laboratorio didattico Gelato Cult, ci sarà un corso dedicato al mondo del cioccolato. Il cioccolato declinato in gelato, in tutte le sue forme e con tutte le sue possibilità. Ci sarà Valerio Esposito con noi, un corso che per chi può venire in presenza dura dalla mattina fino al tardo pomeriggio, dove ci sarà una parte teorica e una parte pratica. Però la novità è che anche chi non ha possibilità di venire qui in presenza può seguire questo corso collegandosi e scegliendo la versione online in streaming. Quindi dalla mattina alle 9 alle 13 ci sarà la possibilità di seguire direttamente quello che viene detto in aula ed eventualmente anche di partecipare con delle domande. Quindi segnatevi www.robertolobrano.com 26 e 27 gennaio 2022